Un banco da lavoro personalizzato, chissà cosa succede se metto questo secchio qui al centro, scopriamolo insieme, i saluti a fine video Ero convinto di aver già fatto un banco da lavoro personalizzabile e invece mi ero completamente dimenticato di registrarlo bene Allora in questa ricetta abbiamo visto che c'è un cespuglio secco agli angoli e al centro un secchio Il risultato per questo banco da lavoro che si chiama secret table, metto il secchio, ok il risultato è un uovo di mucca Andiamo a vedere i command block Allora è molto semplice, qui abbiamo un oggetto che in questo caso è uno sgancio Tasto destro non c'è niente al suo interno, come vedi si chiama anche secret table Ti faccio anche vedere una cosa perché poi la dovremo assolutamente approfondire Rompo questa, insegna questo cartello e vediamo che lo sgancio è posizionato verso questa direzione Allora i command block, questo command block semplicemente verifica che l'oggetto che sta sopra di lui Questo qui, ok, sopra di lui, sia equivalente a quello dove sono quelle coordinate 2, 4, 0 e qualcosa Cioè praticamente verifica che questo blocco sia esattamente uguale a quello Le coordinate che sta leggendo 244, 4, 2, 17 sono esattamente queste, ok, perfetto Poi vediamo nuovamente il command block che è di tipo ripetizione incondizionale e necessita di pietra rossa Noi l'abbiamo attivato infatti con della pietra rossa Lui praticamente verifica, come dicevo, che questo blocco, questo sgancio sia uguale a quello Cosa c'è dentro questo primo sgancio, ok? C'è proprio la nostra ricetta, quella che io ho chiesto di essere poi rappresentata per ottenere l'uovo della mucca mi sembra Quindi c'è spuglio, c'è spuglio e il secchio al centro Se questo a un certo punto, anzi no, se questo oggetto è esattamente uguale a quello Cosa succede? Blocco successivo, catena, condizionale, sempre attiva Condizionale quindi significa che quello precedente deve avere avuto successo Quindi abbiamo esattamente quei tre oggetti all'interno dello sgancio Se questa condizione si verifica, allora lui va a clonare il blocco che sta sopra di lui Esattamente nelle stesse coordinate Praticamente rimpiazza questo blocco là dentro, ok? Cosa c'è all'interno di questo blocco? Ok, semplicemente l'uovo di mucca, cioè il nostro oggetto risultato Possiamo metterne due, possiamo mettere tutti quelli che vogliamo all'interno di questo sgancio Ed è tutto, adesso andremo a costruirne nuove ricette insieme Perché c'è una cosa che dobbiamo assolutamente tenere a mente Prima di costruire una nuova ricetta vi faccio vedere che il banco da lavoro non può essere utilizzato nella nostra struttura Perché semplicemente un banco da lavoro nel momento in cui li mettiamo all'interno degli oggetti Che ovviamente non producono niente secondo la logica di Minecraft Quando chiudiamo la sua interfaccia grafica ok ci ha restituito tutto e quindi non mantiene alcuna informazione Quindi possiamo utilizzare sicuramente uno sgancio oppure per esempio un distributore Andiamo a creare un'altra ricetta Andiamo allora, prendiamo sicuramente questo blocco Sto tenendo il control premuto così si è mantenuto tutte le impostazioni che mi servono Perché semplicemente dobbiamo andare a copiare esattamente un nuovo sgancio Che adesso andremo a riempire Fammi vedere che cosa ho fatto Ok l'ho preso bene Un nuovo sgancio che ovviamente questa è una cosa importantissima Deve trovarsi nella stessa direzione Diciamo di quello che deve andare a testare Cioè questo qui deve essere esattamente nella stessa direzione Altrimenti il test for blocks non funzionerebbe Se fosse così a parità di contenuto comunque direbbe No guarda che questo blocco è diverso da quello in fondo E se ci fai caso anche quello sarebbe diverso da questo Perché? Perché questo oggetto qui è stato rinominato Se rinomini il tuo diciamo oggetto Anche quello di destinazione e quello di partenza Ok anche questi sono rinominati Ok secret table Nel momento in cui io vado a fare un confronto Tra questo che si chiama sgancio Anche se avesse all'interno gli oggetti necessari Ok sarebbe sicuramente diverso da questo qui Anche se avesse appunto gli oggetti necessari Ma differenziano per il nome Ecco perché qui ho messo anche un incutine Perché nel momento in cui vuoi andare a Diciamo a creare un Uno sgancio con un nome particolare Beh allora ti devi ricordare di non poter utilizzare un qualunque sgancio Come questo Ok ma devi andare a prendere proprio quello che hai rinominato Io sto nuovamente tenendo il control così mi sto clonando il mio blocco Ok adesso vado a sostituire questo perché non mi serve Questi qua a me li riprendo E vado a posizionare prima l'uno e poi quell'altro Tanto so che sono esattamente questo Hanno esattamente questo nome Ora vado a creare una nuova ricetta Creare una nuova ricetta e utilizzare le stesse coordinate Significa che noi all'interno di questo Di questo sgancio possiamo andare a creare Diverse ricette e ottenere risultati In base a quello che abbiamo creato Come facciamo a creare una nuova ricetta Per esempio in questo caso sto dicendo che Quattro blocchi di zucchero e uno di lana gialla messi in quella posizione Ci restituiranno una bella mela d'oro Ah dobbiamo andare a attivare il tutto Altrimenti non funziona Perché abbiamo detto che questo blocco è Diciamo si attiva con la pietra rossa Ce l'ho messa adesso alle spalle Ora tocca andare a prendere Che cosa vediamo Allora abbiamo detto lana gialla Quindi lana gialla e poi zucchero Zucchero Un cambio convenientissimo Dov'è? Ok Allora andiamo a mettere la lana al centro Zucchero, 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 zucchero Risultato una bella mela d'oro E ovviamente se andassimo adesso a prendere il cespuglio Ok E il nostro secchio Ok Ovviamente il nostro La nostra secret table sta ancora funzionando Secondo un'altra ricetta Quindi ora sta a te creare le tue mille ricette nuove Minecraft E magari condividere sul server discord Prima di saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link Per scaricare l'avventura della mappa Minecraft ambientata nella città di Venezia Trovi anche l'invito per agganciarti al nostro server discord E stiamo ultimando il server Minecraft attraverso il quale avvieremo contest di costruzione e giveaway Come quelli che realizzo per le scuole italiane Quindi scarica la mappa e fammi sapere cosa ne pensi Poi iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server discord e qui sul canale Qualcuno ha cominciato anche a caricare le proprie creazioni che come vedi Condivido con piacere Detto questo commenta e metti mi piace al video Ma solo se ti è piaciuto infine Dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco Mentre saluto Bad Boy Halo Giuseppe Mirko e Walter da Youtube Levi Dolore Daniele E Patrick K Dal canale discord Che mi hanno chiesto di essere salutati E lo sto facendo in questo momento Ciao Ciao